Questo complesso industriale si trova nella strada vicinale Molin Bianco, siamo alle porte della città di Arezzo, qua vicino c'è l'aeroporto e questa notte intorno alle 2 una banda di malviventi ha colpito tre delle aziende orafe che si trovano al primo piano. Hanno sfondato sostanzialmente le pareti tra un'azienda e l'altra e così facendo appunto in fila sono riusciti a colpire più aziende. In questo momento ci sono i muratori che stanno cercando di riparare i danni causati. Tre le aziende in fila che qui sono state visitate questa notte dai ladri si sono serviti proprio dei passaggi tra un'azienda e l'altra? Sì, sì. Come hanno fatto? Hanno sfondato il muro? Prima hanno forzato la porta, sono entrate dentro e hanno sfondito i muri. Sì, è vuota, quella di lì è vuota, che non so se era l'asta o com'è, è vuota, sono entrate lì e poi hanno bucato i muri da una parte all'altra. Sì, praticamente sono, capito, hanno usato quella come entrare e poi hanno bucato, sono andati là, poi sono andati qua, poi di là, sono andati dentro di là e poi sono andati dentro di là. Quindi in totale quante sono le aziende che hanno visitato? Tre aziende, credo, tre aziende, sì. E una di passaggio? E due di passaggio, perché questo non c'era niente, due di passaggio. Quanto hanno portato via, lo sapete? No, quello non sappiamo niente, noi stiamo chiudendo i buchi e basta, siamo solo qui per chiudere quei danni che hanno fatto, per non lasciare a via. Le attrezze qua, il martelletto, la mola. Se ne sono serviti per sfondare i muri? Sì, sì. In gente il bottino sui 100 mila euro totali tra la MAS e la rapini, oltre ai danni. Coinvolta anche la del lama, ma lì qualcosa è andato storto e i ladri sono scappati.